Dell'XPS 159560 è una macchina costruita alla perfezione con delle prestazioni di rilievo che vanno ad essere importanti per chi debba fare dei lavori come ad esempio il fotografo, il videomaker oppure lo sviluppatore di applicazioni informatiche. Un prodotto costruito in 1,8 kg di peso in alluminio misto ad alcune parti in plastica nera gommata. Il prodotto è spesso nella sua parte più bassa 11 mm, nella sua parte più alta 17 mm. All'interno dello chassis è presente un CPU Intel Core i7-7700HQ a 3,8 GHz, 45 Watt suono la potenza richiesta ed è una quad core. La GPU è una NVIDIA GTX 1050 con 4 GB di memoria VRAM GDDR5. La memoria interna è da 512 GB, 463 saranno quelli disponibili immediatamente all'avvio ed è di tipo PC Express. Una memoria invece RAM da 16 GB a 2400 MHz espandibile sino a 32 GB. In 1,8 kg è presente un display da 15,6 pollici, Full HD, Infinity Display con un contrasto di 1538 ad 1, una rispondenza dei colori Adobe RGB del 98% quindi indicato per chi faccia della fotografia o del videomaking il proprio lavoro. Un prodotto insomma molto solido sotto questo punto di vista. Lo schermo mi è piaciuto e davvero anche tanto la regolazione della luminosità poi permette di avere il giusto compromesso se si è all'interno oppure all'esterno. La finitura opaca sul display permette di andarla ad utilizzare anche in ambienti esterni quindi lontani dalla propria scrivania il che ovviamente è un fattore importante alla luce della luminosità che si attesta sui 350 nits. Almeno noi siamo riusciti a quantificarla su questa cifra. La batteria che è ricompresa sempre in questo peso che potremmo definire piuma è da 97VH permette con un utilizzo molto intenso di raggiungere le 7 ore di utilizzo per l'appunto e invece di raggiungere le 9-10 ore di impiego quando andiamo a fare un utilizzo prettamente web oppure office. Va ad essere impiegato senza nessun tipo di problema anche nella videomanipolazione l'ho utilizzato con Premiere e con Vegas. Sono riuscito senza nessun problema a manipolare sia dei filmati H.264 sia H.265 non parliamo neanche delle sue capacità di riproduzione all'interno di un salotto in cui potremo andare a sfruttare tutte quante le sue connessioni. Il corpo è realizzato tanto bene da prevedere innanzitutto una cerniera che è vero è molto rigida magari anche difficile da aprire però vi garantisce nel tempo che la cerniera per l'appunto non diventi lasca. Invece sulla parte sinistra del prodotto è presente la porta per alimentare il dispositivo attraverso quindi il classico adattatore. È presente una porta USB 3.0, la HDMI, una Thunderbolt 3 che ci permetterà di andare a collegare questo prodotto direttamente a due monitor contemporaneamente sino alla risoluzione massima dei 4K il jack delle cuffie, sulla parte destra invece il tastino con i 4 led che ci indicheranno quanto l'autonomia del dispositivo sia quindi stata ricaricata l'USB 3.0 è l'entrata per le schede SD. Questo è ovviamente una funzione molto molto comoda per chi per l'appunto vada ad inserire a staccare in continuazione la memoria SD proprio per lavoro come ad esempio è capitato anche a me per editare una serie di video. Utilizzare questo prodotto all'interno del videomaking è perfetto perché non va mai a raggiungere delle temperature eccessive. Le temperature sulla scocca si vanno ad innalzare principalmente nella parte alta della tastiera tastiera ad 81 tasti QWERTY quindi è disponibile anche con il layout italiano con le accentate per l'appunto. Il poggiapolsi è comodissimo ed è rifinito con una texture fibra di carbonio piacevole al tatto ma che prende troppe impronte digitali però ovviamente potremo andare ad eliminare queste impronte digitali semplicemente con un panno in microfibra e con un po' di olio di gomito. Il touchpad è perfetto sebbene non sia gigantesco come abbiamo imparato a conoscere dai produttori dei competitor di Dell ma risponde perfettamente alle esigenze di tutti noi. Ci sono i diversi swipe, è naturale nell'impiego giornaliero e quindi lo vado a promuovere a pieni voti cosa molto particolare è la presenza di un led nella parte in basso del touchpad che ci farà capire, ci farà comprendere che il dispositivo è in funzione. Un prodotto che quindi nasce per chi debba lavorare in ambito fotografico, in ambito videomaking ma anche all'interno di uno studio magari legale oppure in uno studio di progettazione. Ma la cosa molto interessante è che la GPU, quindi la Nvidia GTX 1050 è davvero prestante, io l'ho utilizzato su tre giochi principalmente, Project Cars su Doom ed anche su One Piece Ultimate Warriors e ho raggiunto framerate molto stabili anche sui 60 andando a giocare con i dettagli a risoluzione alta. Ovviamente ho dovuto limare qualcosina per riuscire comunque a raggiungere una stabilità che fosse soddisfacente però è una macchina che si presta anche al gaming. È un prodotto che però se messo sotto sforzo va a mostrare e va a far sentire principalmente le due ventole che sono posizionate nella parte sottostante, parte sottostante che quindi inevitabilmente diventa rumorosa però va a dissipare perfettamente, quindi queste due ventole vanno a dissipare perfettamente le temperature che non diventano mai preoccupanti. 42 gradi nella parte in alto della tastiera che è quella più calda mentre 77 gradi su Core. Gli speaker posizionati nella parte in basso frontalmente non sono compatibili con tutti quanti i tipi di musica, se ad esempio siete degli estimatori delle DM sentirete immediatamente gracchiare questi altoparlanti soprattutto se portati ad un volume eccessivo. Dell XPS 15 9560 costa 1799€ in questa configurazione sul sito della Dell e con 12 mesi di garanzia mentre Street Price è acquistabile a 1550€ all'incirca. Un prodotto che anche in questo sample mostra il fastidioso Core. Blue Wind sebbene sia impercettibile, un prodotto che però con meno di 2000€ vi permetterà di lavorare in sicurezza, velocità e con prestazioni che ad oggi sono insuperabili.